la mia ricerca di corsi d'acqua nuovi per me sta dando buoni frutti d'altra parte molti dei miei posti si è eslamato adesso la mia ricerca di corsi la mia ricerca di corsi la mia ricerca di corsi Ok, porca Eva No, no, no Merda 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 Oh Oh Okay, okay Adesso cerca di stare qua Adesso cerca di stare qua Aia E pazienza 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 Pazienza